Vorrei rendere significativo quello che è successo nel Veneto perché significa che anche all'interno del centro-destra esiste la possibilità di un dialogo per portare quantomeno alla realizzazione una proposta, un disegno di legge che dia sistematizzazione a quanto già esiste. Queste le motivazioni che hanno portato l'onorevole Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, a ripresentare alla Camera la proposta di legge del Veneto sul fine vita bocciata martedì in Consiglio regionale. L'iniziativa legislativa si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata, continua Zanella, alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita, secondo la sentenza della Corte Costituzionale. L'intento dunque è che sia la politica nazionale a colmare il vuoto esistente senza lasciare che ogni singola regione si muova autonomamente. Io sono convinta, molto convinta, che determinato accesso ai servizi, soprattutto nell'ambito della sanità, devono essere omogenei per tutto il paese. La discussione iniziata in Veneto dunque scuote la politica nazionale e rompe il seminario dei deputati Dem in corso a Gubbio. Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso. È parte del programma del PD della mia mozione. È un'occasione persa, quella del Veneto, che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla Corte. Le parole della segretaria PD, Elislein, un'iniziativa che non disturba chi da sempre ha appoggiato la proposta di legge, il governatore Zaia. Io non sono imbarazzato per nulla, guardi, penso che questo sia un tema etico e ognuno è giusto che gestisca la sua posizione. Zaia che non risparmia una stoccata agli alleati di Fratelli d'Italia, che all'indomani del voto in consiglio avevano evidenziato la compattezza del gruppo organizzando un convegno sul tema. Se tu vuoi fare il portabandiera del no al fine vita, l'unica roba che puoi fare è presentare una legge per approgarlo, perché altrimenti la discussione è fine a se stessa se poi non rispondi con i fatti. Lo dico perché ci sono delle posizioni estreme che rispetto, ma che sono incompatibili poi con i fatti. Ma anche in casa Partito Democratico, la bocciatura in consiglio ha causato un mal di pancia per l'assenzione di Anna Maria Bigon, che la destra abbia sconfessato Zaia non stupisce, ma è una ferita che ci sia stato un voto del PD, chiosa Schlein. Se il gruppo del PD vota a favore e ti chiede di uscire dall'aula, è giusto uscire dall'aula, perché l'esito di quella scelta cade su tutti. Siamo per la regolamentazione del fine vita, conclude la segretaria Dem.